Bene, buonasera a tutti, abbiamo terminato il corso dell'eccellenza ai salti col tandem, abbiamo fatto un corso test qui a Molinella con l'associazione Fly Gang, consiglio veramente come gruppo perché sono esperti puntuali, persone veramente straordinarie che fanno il loro messiere con lavoro, con passione, quindi il loro lavoro lo fanno molto con passione e ti trasmettono questa voglia di superare i limiti, bravissimi e competenti. Noi siamo soddisfatti, stanchi, ma molto soddisfatti di aver raggiunto anche oggi dei livelli emotivi, di gruppo, di corsi, di superare le barriere, tutto quello che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto, i feedback sono stati ovviamente rassenti allo straordinario, l'unica cosa che ci resta è di mantenere questo standard e di andare avanti così. Grazie al gruppo di oggi, grazie a Fly Gang, grazie ai soci Warriors, senza i quali questo non sarebbe stato possibile e ci vediamo al prossimo evento. Ciao!